buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della rubrica face to face il nostro ospite di oggi è Matteo Grolla credit specialist di 24 max benvenuto Matteo buongiorno grazie Jennifer per questa disponibilità assolutamente grazie anche per avermi dato parola per raccontare un po le mie esperienze in questo settore assolutamente grazie l'esperienza di Matteo merita di essere conosciuta perché è innanzitutto il più giovane credit specialist di 24 max ma non solo questo in tre anni è riuscito a piazzarsi al nono posto della classifica dei top producer della società di mediazione creditizia e ha visto triplicarsi il suo fatturato tra il 2021 e il 2022 quindi risultati importanti innanzitutto congratulazioni e grazie mille da chiederti immediatamente come hai fatto però direi di fare un passo indietro e di chiederti come hai conosciuto 24 max e quando hai cominciato a lavorare come consulente del credito direi che le cose combaciano quindi io sono partito come consulente in 24 max il periodo ce lo ricordiamo tutti era quello del covid io lavoravo già come consulente presso un'altra realtà ma facevo ovviamente tutt'altro lavoro conoscendo la realtà e proposto ovviamente il lavoro e la professione ho preso la valigetta come si dice nel gergo più comune ho iniziato a formarmi a prepararmi ad essere abilitato a questa professione e iniziare dal vivo mi ha subito incuriosito un mondo molto particolare complesso ma molto professionalizzante quindi quindi sai ti muovi molto per curiosità e poi ti muovi per passione quindi sono due cose secondo me che si collegano e sono importanti ho iniziato e ad oggi sono circa tre anni che sono pienamente operativo nella mediazione bene e dove hai cominciato dove lavori so che 24 max si muove in stretta relazione con la rete di franchising remax quindi sicuramente sarai in un'agenzia remax ma lavori sempre all'interno di una stessa agenzia oppure ti muovi e incontri clienti anche di altre agenzie le due domande hanno due risposte positive quindi assolutamente sì io lavoro presso un'agenzia ad oggi è la remax l'osere in mobiro dove un po' ho messo le mie radici però le radici si allargano acquisiamo e seguo anche i clienti esterni assolutamente anzi direi che la mia mola di lavoro è altrettanto grande quanto il cliente all'interno dell'agenzia ma essere all'interno dell'agenzia è molto importante perché ti permette di seguire dove ovviamente viene vitalizzato al meglio tramite un'ottima consulenza il cliente anche se dovesse comprare un'agenzia esterna quindi ti dà modo di vedere tutti i clienti che richiedono credito non solo quelli di cui ricercano la tua figura obbligatoriamente assolutamente ascolta a questo punto entrerei un po' nel vivo e ti chiederei come hai fatto ad affermarti tra i migliori consulenti di 24 max e perché il tuo fatturato diciamola importante è passato da un milione centomila euro a 4 milioni e 400 mila euro nell'arco di 12 mesi insomma è parecchio quindi come come ci sei riuscito? Molto semplice a dirsi poi a farsi un'altra cosa ovviamente è tutta una legge di numeri il nostro lavoro si basa sui contatti si basa soprattutto sulla qualità dei contatti stessi più se ne acquisiscono e più si ha passione di raccontare il proprio lavoro più ovviamente si trova un'opportunità il numero dei clienti il numero dei contatti permette veramente di aumentare quello che è la mole lavorativa quindi sulla base di ciò dico che prendere il nostro lavoro portarlo veramente ovunque questo permette di acquisire più clientela possibile acquisire clienti ovviamente ti porta a salire con il numero degli erogati che è una cosa importante. So che per 24 max è anche molto importante la formazione quindi tornerai di nuovo un momento indietro e ti chiederai quando hai fatto il tuo corso di formazione iniziale per entrare in 24 max? C'erano anche altri tuoi coetanei e come ti sei trovato? Come è andata? Ora mie coetanei direi diciamo non molto assolutamente anche perché sono più giovane lo sono ancora quindi speriamo di esserlo ancora per qualche tempo diciamo che nel momento in cui si inizia un corso di formazione nel momento in cui ci si interfaccia con una nuova realtà è ovvio che bisogna prendere carta e penne e segnare come l'azienda vuole lavorare e che tipo di lavoro vuole sentimenti insegnarti che tipo di impronta vuole darti dell'azienda stessa una volta capito secondo me questo meccanismo è a me piace veramente tanto il confronto è una cosa secondo me fondamentale nel mio corso formazione si trovano anche i colleghi che avevano e hanno tutt'oggi molta più esperienza della mia veramente a me piace seguire ascoltarli e imparare da chi veramente ha fatto di più rispetto a quello che ho fatto io fino adesso quindi una sorta di ambizione c'è anche nel seguire e confrontarmi con molti miei colleghi che poi hanno fatto anche il corso formazione con me quindi sì e quindi immagino anche che tu abbia avuto un buon maestro educo assolutamente sì questo è un punto fondamentale del nostro lavoro imparare da chi ha veramente tante esperienze e chi vuole insegnarti non solo la passione per questo lavoro ma anche le competenze le competenze dei trucchi del mestiere definiamoli così che non sono scritti sui libri io tutt'oggi ho un maestro che ci confrontiamo e c'è un legame veramente veramente forte non solo professionale devo a lui tanto di quello che ho fatto e vorrei superarlo non ci sono ancora riuscito però quasi quasi accorciano le distanze mi sembra di capire allora benissimo in conclusione Matteo ti chiederei che consigli ti senti di dare un under 30 che volesse intraprendere questa carriera lavorativa e perché gli consigli di scegliere 24 max rispetto a un'altra società di mediazione credizia assolutamente sì parlo in funzione anche della mia esperienza un under 30 che sia neofita o comunque meno comunque sia molto giovane che inizi questo tipo di professione di trovare veramente una persona che sia in grado non solo di trasmetterti le competenze ma anche la passione per questo lavoro è fondamentale come ovviamente seconda domanda scegliere 24 max è una realtà che ti permette non solo di ampliare subito il tuo pacchetto clienti perché è legata a un mondo immobiliare una delle reti più importanti sia l'italia ma anche del mondo ma anche per migliorare subito quello che è la qualità dei clienti che si raccolgono perché veramente un agenziale max transitano tutti i clienti che scelgono e vogliono avere una consulenza creditizia quindi un mutuo per comprare il loro immobile per cui questi secondo me sono le due risposte migliori a queste tue domande benissimo matteo allora ti ringraziamo intanto per aver condiviso con noi la tua esperienza e ti ringraziamo e speriamo di vederti presto per conoscere i tuoi nuovi risultati nella classifica di 24 max assolutamente sì a completa disposizione speriamo di risentirci molto molto presto anno nuovo vita nuova benissimo incrociamo le dita con te allora grazie per essere stato con noi e un saluto ai nostri spettatori grazie mille a voi per la disponibilità assolutamente alla prossima